Attirava il ragazzino all'epoca dei fatti poco più che 13enne con la promessa di 15 euro in cambio di una prestazione sessuale. Il mostro Alessandro Cordini, 54 anni e precedenti penali specifici, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale aggravata e continuata, ma non è stato il solo a finire in carcere. I genitori del ragazzino sapevano ma non hanno parlato e hanno permesso che la violenza si prolungasse per nove mesi accertati, ma probabilmente molto di più. Una storia squalida che si è consumata in un piccolo centro nell'Interland barese. All'uomo è stata contestata anche la violenza sessuale su un altro minore, i cui genitori, scoperta la vicenda, hanno però deciso di collaborare. Determinante è stato per gli agenti della squadra mobile di Bari anche l'ausilio degli assistenti sociali. Il sospetto è che, oltre ai due ragazzini, l'uomo abbia agito con la stessa tecnica anche su altri minori. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari Giulia Romanazzi su richiesta del PM Lidia De Iure.